ciao ragazzi oggi mukbang come dicono tanti come fanno tanti così lo faccio pure io yogurt da un chilo buono solo non credo che mi mangio tutto non credo proprio che non mangio tutto adesso un po' adesso un po' stasera un chilo fa pure schifo con questa barba che si è sporca di yogurt da un chilo ho sporcato il guarniato un chilo poi poter sapere che mi mangio tutto non lo so no è troppo mi sento male se mi mangio tutto mi sento male anni fa mi mangio tutto quando andavo in palestra e poi così facendo il mukbang ma come lo godo ma lo so godo mi mangio lo carico sto video mi fa schifo che mi si sporcano i baffi del yogurt a me non è che ho paura ho paura che mi sento male capito ho detto anni fa mi mangiavo andavo in palestra mi mangiavo però così però sono educato vedi i baffetti puliti buono si può mangiare si può mangiare solo io di solito faccio yogurt ai frutti del bosco ci compro pure la marmellata ai frutti del bosco e ci ammischio e poi sopra ci metto la panna viene come in gelato questo strepitoso arriverò a mezzo giro e stop vedete solo che questo uno tira l'altro che sono talmente buoni si così un cucchiaio di l'altro buono guarda se non mi sento male stasera lo faccio servire domani semmai porca troia un chilo alla youtube anch'io alla youtube anch'io forse però a youtube anch'io se ne sarebbe avuti mangiati tre dei chili o due due e un pollo adeguato no? batti puliti non si vedono schifezze basta davanti a evo buono però ma qui non ho mangiato più di mezzo chilo bucchie beng un chilo questa è la prima volta che faccio questo bucchie beng mi pare bucchie beng mi pare oh sono cinque minuti che sto a mangiare anzi sei minuti ripeto ripeto ho pure che mi sento male a mangiarlo tutto perché anch'io è troppo bucchie beng bucchie beng non finisce più non finisce più c'è quasi finito cazzo qua mi piace la cagarella mi piace il malestomago ecceziamo è finito sentimose male che devo fare sentimose male non sono più abituato a mangiarli così tanti vedi quasi finito mi ricordo anche io fino all'ultima briciola non so se ce la faccio io l'ho fatta lo speriamo che dopo non mi sento male che devo chiamare l'autobulanza finito un chilo di yogurt bermukbeng o speriamo che non dobbiamo chiamare l'autobulanza ciao frate e chiasore ok tutto ok